Non è stato affatto semplice allontanare le centinaia di curiosi. Carabinieri e vigili urbani hanno delimitato l'area, oltre che per la sicurezza dei presenti, per consentire ai vigili del fuoco e alla protezione civile di operare. È un disastro, un vero disastro, dice il sindaco di Amalfi, Daniele Milano. Abbiamo già attivato tutta la linea di emergenza e allertato la sala operativa regionale, la prefettura e i vigili del fuoco. Al momento non risultano feriti o dispersi, anche se, sottolinea sempre il sindaco, il materiale franato sulla strada è imponente e nessuno in questo momento è in grado di dire se ci siano o meno delle persone coinvolte. La prima necessità ora è di mettere in sicurezza l'aria e i pezzi in alto che sono a rischio di distacco, sgomberare la strada e soprattutto verificare che non ci siano persone coinvolte. Intanto, a causa della frana potrebbe verificarsi anche un'interruzione della fornitura idrica sul territorio comunale. La frana è caduta proprio nel giorno in cui gli studenti del Marini Gioia di Amalfi avevano ripreso le lezioni in presenza. Per gli studenti e per tutti i residenti rimasti bloccati da una parte o dall'altra tra Amalfi e da Gerola è stato predisposto un servizio transfert via mare, molo pennello, porto di Amalfi per raggiungere attraverso le scale che costeggiano l'hotel Cappuccini e la carrabbile in località Cieco, di cui poi troveranno a disposizione i bus della Sita. Dal mare ancora più impressionante comunque l'immagine che si ha dell'evento franoso che al momento divide in due la costiera amalfitana che dimostra ancora una volta purtroppo la sua fragilità cresciuta negli ultimi anni con l'intensificarsi dei fenomeni atmosferici.